Io adesso ti metterò la crema su tutto la pancia e poi ti metterò con un massaggio. Che crema è? È una crema diuretica. Oh, no. Basta! Schifo! E ti lascio qui così 5 minuti? Senti! Ma chi mi ha? Sono prurito! Allora! Mi pissica qui! Vai! Tieni su le mani! Non devi fare un sacco! No! Mi pimp! Ma cosa c'è? Ma guarda! Dai, era ora! Ma io stavo bene con i miei! Parìììì! Mi fai vedere qua! Ma che schifo che faccio così! Da qua! Voilà!